Allora ragazzi dalla regia, possiamo partire? Ok? Quante persone sono collegate? 15 milioni. Incredibile, incredibile. Per la questura, 15. Vabbè, c'è sempre un leggero sfasamento tra la questura e i dati della mia regia. È tutto quanto pronto. Possiamo partire, signori. Benvenuti in una nuova puntata di Enlove TV. Il titolo di questa puntata è Trend Marketing 2020. Ok? Quindi assolutamente impegnativo. Il 2020 è uno spazio rosa tra il 31 dicembre 2019 e il 16 gennaio 2020. Quindi abbiamo questi 16 giorni e stiamo già a pensare a quelli che possono essere i trend, perché siamo votati sempre in avanti. Invece dobbiamo controllare il presente e guardarci leggermente indietro e guardare anche il passato. Partiamo da un concetto che ho messo ben presente anche nel libro Sui Content, nuova edizione, che sarà data praticamente a tutti i partecipanti del Send Love, che sarà il 14 marzo a Verona. e l'abbiamo consegnato praticamente oggi, perché? Perché volevamo tirar fuori tutte le informazioni più aggiornate possibili. Ok? E ovviamente di base cosa si fa? Nei trend uno pensa di poter trovare delle scorciatoie. Partiamo dal primo concetto, pensiero e azione. E quindi tutto quello che facciamo deve partire da un pensiero. E vi do dei concetti base su cui poi andiamo a sviluppare l'intero webinar. Il primo concetto che dovete mettere nel vostro capoccione è che non esistono scorciatoie. O le scorciatoie le possono capire semplicemente chi conosce la mappa. Quindi vi posso dare dei trend, dei suggerimenti, delle cose particolari per il 2020, ma dovevate capire la strategia marketing già nel 2019. Quindi la prima cosa da portare a casa è avere ben in mente l'insieme della strategia di comunicazione. E nel libro 6Content ho sviluppato un bellissimo schema che trovate esattamente qui. E nello schema vedete delle rotelline perché mi fanno leggermente jahare i funnel. Quindi gli imbuti non mi piacciono. Quelle che mi piacciono sono degli ingranaggi, come quello che dobbiamo avere metaforicamente nel nostro cervello è farle girare. Ogni ingranaggio serve per raggiungere il nostro obiettivo. Ogni ingranaggio può avere dimensioni diverse in base alla tipologia di azienda e di progetto che andiamo a sviluppare. Quindi un trend ha significato, se conosco ho una visione di insieme. Poi ognuno ha le sue capacità, le sue competenze, la sua professionalità ed è votato per esempio più a fare video che a sviluppare testo o altri che sono più votati a sviluppare un sito piuttosto che una strategia SEO. Ma bisogna capire nell'insieme cosa si hanno a disposizione. Da imprenditore che parla ad altri imprenditori, quello che è importante è sapere cosa bisogna fare e dopodiché rivolgersi a dei professionisti. Punto uno. Punto due. Human First Index. Prima di parlare di mobile, prima di parlare di pagine AMP, prima di parlare di video, prima di parlare di neuromarketing, dobbiamo portare a casa l'indice di umanità. I brand sono fatti di persone per le persone. Questo è un dato che ormai è chiaro. La mia società si chiama Enlove. Abbiamo sviluppato questa società, abbiamo sviluppato il sito, l'eventos Enlove, Viche Enlove, tutti gli eventi con verticali, ma la nostra società si chiama Enlove. Cioè davanti puoi mettere quello che vuoi, ma non può mai mancare l'empatia, non può mai mancare la parte umana. Finalmente questo concetto è stato compreso e si parlerà sempre più spesso di love sul business, che prima era follia, ne parlavamo praticamente solamente noi, e adesso invece tanti stanno finalmente utilizzando questo. Chi in maniera seria, chi scimmiotando quello che abbiamo già fatto noi. Human First Index. Si parte da qui. Quando tu sviluppi un contenuto, non devi semplicemente fornire un'informazione, devi creare un contatto con quella persona. E ci sono delle strategie per prendere il lettore per mano e portarlo praticamente, e creare la fiducia nei tuoi confronti. Una tecnica molto semplice è quella di mettere nel contenuto, nelle informazioni che stai sviluppando, la tua esperienza. Se ti sto parlando della Brexit, semmai non ti parlo semplicemente del concetto in sé, ma ti spiego come nel mio lavoro ho applicato quello che ti sto raccontando e ho raggiunto un certo tipo di risultato. Quindi parlare anche dei po' più. Quando io vi parlo di content marketing, lo faccio sempre con esempi di attività che io ho sviluppato, perché altrimenti non sono un esperto di content marketing, sono un divulgatore di content marketing. Nel mio caso parlo di content marketing perché ho milioni di visite tutti i mesi su quell'argomento lì e ho dei casi pratici di cui parlare. E questo fa tutta la differenza del mondo. Provate a leggere, a cercare online Google My Business, trovate un mio articolo e capite esattamente di cosa vi sto parlando. Non ho semplicemente dato delle informazioni, ma c'è quella punta di personalità mia che fa capire esattamente chi sono e perché dovresti leggere il mio articolo piuttosto scritto da un altro che ha le stesse informazioni, ma non ha lo stesso tipo di approccio. Altra componente fondamentale che è ovviamente collegata con Human First Index, qual è? Personal branding. Ok? Personal branding. Quando è necessario fare personal branding? La risposta è sempre, perché forse tu non lo sai, ma tu fai sempre personal branding. Quando stai zitto, stai facendo personal branding. Quando commenti un post su Facebook, stai facendo personal branding. Quando decidi di non commentare un post su Facebook, stai facendo personal branding. Quando respiri, stai facendo personal branding. Quando cambi la fotografia del tuo, della fotoprofilo del tuo blog, stai facendo personal branding. E hai due modi di fare personal branding. O praticamente ignorandolo e quindi viene su a casaccio lasciando come pollicino delle molliche di pane nel web che daranno un certo tipo di percepito, ma caotico, o piuttosto prendendo in mano una strategia di personal branding e costruendo nel tempo la tua immagine. Io utilizzo come metafora sempre quella del barattolo. Di un barattolo dove ogni attività che facciamo va a riempire quel barattolo. quel barattolo potrebbe essere pieno di cose positive oppure di cose assolutamente negative. La cosa bella è che possiamo sfruttarlo e decidere a un certo punto di riempirlo solamente di cose positive. Dato che parliamo di Human First Index e la persona è al centro della comunicazione delle aziende, altrimenti non si parlerebbe di influencer marketing, è fondamentale che tu sia l'imprenditore, che tu sia un dipendente di un'azienda, attuare dell'attività di personal branding, che potrebbe essere minima, semplicemente ho dei account social che sono messi a posto in una certa maniera, sono in ordine, o piuttosto per raggiungere un altro obiettivo. In definitiva, quello è l'obiettivo del personal branding? È quello di farsi scegliere. Se decido di avere un video ben fatto, un service per il mio evento, so che devo chiamare Antonio Ameraglia. Se devo fare un'attività SEO, so che devo chiamare Giulia Bezzi. Se devo farmi una risata, chiamo un comico. Ok? Chiarissimo? Bene. Altro punto fondamentale, che è assolutamente collegato a quello che abbiamo visto prima, è il tempo. Il tempo è un concetto, è un pensiero che dobbiamo portare a casa, soprattutto quando sviluppiamo contenuti e comunichiamo. Non dobbiamo avere la frenesia di fare... Se dovessi fare la pipì, ti devo dire una cosa molto veloce. Ok? Gli utenti si prendono del tempo quando hanno bisogno di informazioni. Per leggere un contenuto, per ascoltare un podcast, per guardare un post su Facebook, ho bisogno di tempo. quindi devo capire che questa parte qui è fondamentale. Io, per sviluppare un contenuto, mi devo prendere il tempo, perché devo studiare il mio pubblico, a chi mi sto riferendo, a chi io avrò davanti, il loro livello di comprensione di quello che andrò a dire. Se parlo di advertising, con una persona che è completamente all'asciutto dell'argomento, utilizzerò un certo tipo di terminologia, se parlo con un esperto, devo utilizzare termini totalmente diversi. Ok? Il tempo. Dipende ovviamente anche dal canale. Se un utente sta cercando su Google l'informazione, è perché lui la sta cercando. E quindi mi darà la massima attenzione. Non ha tempo però da perdere. E quindi, se entra nel mio contenuto e nei primi 4-5 secondi non capisce di trovarsi nel posto giusto perché sto 3G versando, andrà via e sceglierà qualcun altro. Ok? Quindi il tempo è un dato importante, ma non perché le persone hanno fretta e non leggeranno mai nulla. Semplicemente perché non devo fargli perdere il tempo, ma dargli l'informazione giusta e corretta. E quindi serve studio e metodo che non è assolutamente semplice. E qui arriviamo al passo successivo. Ti devi prendere del tempo perché se vuoi raggiungere dei risultati, qui parliamo di business, ok? I contenuti votati al business. Se vuoi raggiungere i tuoi risultati, ti devi prendere del tempo per studiare. Anche riqualificare le tue informazioni. Quotidianamente io mi informo o chiedo informazioni a colleghi oppure leggo alcune tipologie di libri o vado a frequentare dei corsi. Tutti bisogna farli. Perché? Perché è fondamentale. Ci sono argomenti totalmente nuovi che oggi vedremo che impicano a qualsiasi livello una riqualificazione continua. E qui mi piace ripetere un messaggio che ci ha fornito Piero Angela quando l'abbiamo intervistato nel 2018 per Elsa and Love e Piero Angela ci ha detto dovete essere positivi per quello che avete già fatto ma non dovete mai accontentarvi quindi dovete cercare l'eccellenza che ovviamente è difficile e questo porta a una riqualificazione continua del pensiero perché si parte da lì e poi dall'azione. E quindi la prima riqualificazione la potete fare tranquillamente il 14 di marzo a Elsa and Love a Verona ricordatevi che fino al 20 di gennaio avete i biglietti in promozione ed sarebbe proprio un peccato mortale non approfittarne. A proposito di pensiero adesso abbiamo un personaggio con un capoccione così che è Mariano Di Otto esperto di neuromarketing professore universitario e quindi Mariano ti chiedo quelli che sono i trend del 2020 i trend del 2020 sicuramente saranno legati ai big data big data che sono importanti però credo che in Italia si parli ancora di questo argomento a livello quantitativo quindi quanti dati raccogliamo e che informazioni possono darci io credo che sia necessario fare un passo più avanti cioè analizzare questi dati a livello qualitativo perché tanti dati ci possono dare tante informazioni ma poi dopo il cliente che cosa può prendere di questi dati e trasformarli in una strategia in un progetto creativo in una anche strategia social i dati infatti ci possono dare un elemento semplice che è quello che viene solitamente usato un po' da tutti quindi il dato linguistico quindi anche fare un'analisi semantica del web attraverso gli hashtag ma questo è proprio un modo di fare veramente molto molto vecchio noi non dobbiamo più analizzare solo la forma linguistica del web ma dobbiamo analizzare tutta la parte visual e che cosa ci dicono le immagini che postano i nostri clienti sul nostro argomento che caratteristiche hanno queste immagini di forme di colori dove è ambientato il mio prodotto dove viene utilizzato quindi credo che sia necessario fare proprio uno switch cioè di passare da un dato quantitativo a un dato qualitativo e che cosa può aiutarci in questa cosa qui credo che il neuromarketing il neurobranding possono aiutarci perché ci danno gli strumenti quindi gli archetipi attraverso i quali poter raggiungere il nostro cliente nel neuromarketing ci sono due grandi aree la prima è il neuromarketing quello predittivo cioè quello che non utilizza le macchine ma cerca di dare dei consigli al cliente su come costruire la propria comunicazione in maniera efficace partendo proprio dagli archetipi e poi c'è una valutazione che può essere fatta attraverso delle macchine che cercano di verificare se quello che si era progettato può funzionare quindi questi due elementi big data con tutte le strategie che ci sono nel neuromarketing abbinate assieme possono dare sicuramente delle informazioni utili alle aziende per creare il proprio advertising il proprio posizionamento in rete nei social e anche la costruzione di un sito stesso quindi credo che questo sia per me per la mia professione quello che sarà il futuro quindi questo 2020 sarà contrassegnato da big data non solo quantitativi ma qualitativi abbinati a tutte quelle che sono le strategie di comunicazione abbinate al neuromarketing Mariano è importantissimo prima di qualsiasi altro tipo di discorso si dice big data o big data allora big data è proprio italiano cioè big data è un po' un po' più come la pronuncia corretta però va bene l'importante è che ci capiamo non stiamo a disquisire sulle parole le parole possono solo aiutarci l'importante è che capiamo la stessa cosa che in questo momento purtroppo in Italia è la raccolta di dati a livello quantitativo chiamiamole big data o big data è la stessa identica cosa ok altra informazione una volta che abbiamo sistemato il discorso di come chiamarlo quindi big data è il big G quindi google ci dà a disposizione uno strumento come google analytics è sufficiente o è meglio parlare oggi di business intelligence allora google analytics sicuramente ci dà delle informazioni importanti e sono informazioni base da cui dovremmo partire però è anche vero che queste informazioni ce le ho io ma ce l'ha anche il mio competitor e il mio competitor può averle anche su di me e quindi questo è un elemento che non riesce a differenziarti nel mercato anche a livello di posizionamento l'importante è avere dei dati che gli altri non hanno e che tu puoi utilizzare e utilizzare in maniera creativa strategica per posizionarti meglio sul mercato infatti quella che appunto viene chiamata business intelligence intelligenza artificiale ci permette di ottenere dei dati che ad esempio competitor non hanno un esempio se io vendo il mio prodotto e uso una tipica caratterizzazione di prodotto non è detto che questa sia quella che poi dopo realmente viene realizzata dai miei clienti dai miei consumatori ti faccio un esempio ho lavorato per un'azienda che produce un prodotto fritto da mettere in freezer che lo puoi cucinare la sera quando arrivi a casa in velocità questa azienda ha lavorato per anni investe milioni di euro in advertising televisivo per promuovere questo prodotto con fascia di pubblico i bambini noi invece abbiamo analizzato e visto in rete che in realtà questo prodotto si vende in questa fascia di pubblico ma c'è un pubblico emergente che sono i single che abbinano questo prodotto che di per sé non è naturalissimo perché è fritto è un precotto quindi non è proprio il meglio che esista a livello di naturalezza e di bontà è buona a dire la verità però non è proprio che quello che il percepito sia così ottimo su questo prodotto perché non è un prodotto fresco abbiamo visto che in rete c'è un parlato di questo prodotto quindi delle fotografie che raccontano questo prodotto abbinato degli elementi naturali quindi assieme al pomodoro assieme alle verdure assieme a qualcosa che è veramente molto naturale e quindi la strategia che può utilizzare questa azienda per ampliare il proprio pubblico è lavorare su questo nuovo target che non aveva individuato perché? perché i creativi l'agenzia che li seguiva li ha sempre fatti navigare su questa strada invece trovare nuovi percorsi chi ce li può dare ce li può dare la rete ce li può dare il dato postato dall'utente perché l'utente racconta la propria esperienza e da questo possiamo trarre il percepito del pubblico sul nostro prodotto e creare una strategia ad hoc ampliando l'offerta comunicativa che in quel momento ha l'azienda tu per quanto riguarda questo tipo di analisi utilizzi dei tool ci sono delle aziende che lo fanno? allora io utilizzo una suite che è social meter suite che penso che molti di voi conoscono perché riesce a darmi il dato sia del parlato nel web e quindi articoli tutto quello che si racconta di un'azienda ma anche dei competitor ed è un parlato tra l'altro filtrato quindi con una percentuale di qualità Maxon che è il proprietario di questo software ha una caratterizzazione che cerca di qualificare le fonti quindi dare un punteggio di validità di tipo diverso ti faccio un esempio se parlano di me su un giornale locale dieci volte parlano di me su un giornale nazionale è ovvio che il dato numerico dice dieci contro uno ma forse quell'uno mi vale di più che i dieci che ho sul locale quindi ha delle fonti qualificate questa suite mi permette anche di fare un'analisi visual cioè mi permette di vedere tutto il postato che c'è attraverso degli elementi chiave che noi ricerchiamo in riferimento all'azienda mi fa vedere esattamente tutto quello che viene raccontato dell'azienda e posso anche vedere cosa raccontano i competitor di quell'azienda per vedere le strategie comunicative ad esempio a livello di visual ad esempio a livello di suono il suono non è ancora molto utilizzato in questo momento a livello social però pensiamo anche solo l'evento di TikTok come il suono stia diventando molto importante credo che forse sarà passata l'epoca delle immagini tutto questo visual probabilmente visual suono parole sono una prospettiva futura quindi io utilizzo questa suite che mi permette di ottenere alcuni dati interessanti poi ovviamente c'è sempre il dato umano del professionista che deve analizzare deve sapere fare un'analisi semantica di quello che è il web ok Senlob 14 marzo 2020 qual è il tuo argomento? quest'anno vi parlerò di predicting personality è un argomento abbastanza nuovo in Italia perché è qualcosa che in America funziona tantissimo infatti nei giorni dopo Senlob andrò in America per coltivare tutto questo aspetto a livello comunicativo si tratta di individuare dei comportamenti che gli utenti hanno nei social che sono dei comportamenti potremmo dire minimi o correlati ad un determinato acquisto ad un determinato valore dato ad un brand un caso importante quello di internazionale di target penso che che tu conosca ma anche chi ci sta seguendo conosce che è quella quell'azienda americana che è un supermercato insomma che ha tanti tanti prodotti al proprio interno che vende qualsiasi cosa e tramite la neuromarketing quindi tramite anche la raccolta di dati che è riuscita a fare con i big data con le testere punti sostanzialmente che usano i clienti è riuscita a capire quando una ragazza di 16 anni è rimasta incinta prima che lei lo comunicasse ai propri genitori e questa cosa qui è particolare perché uno dice beh l'ha scoperto perché nell'altra serie a punti ha caricato l'acquisto di pannolini di biberon di ciucci questo è l'acquisto è la correlazione diretta quindi questo è ovvio che se uno compra i pannolini evidentemente c'è un bambino in famiglia questo non predice niente dice esattamente la realtà dove sta la predicting personality e capire a livello proprio quantistico quali comportamenti quali consumi ci sono prima di questo evento quindi target ha visto che le donne di una certa età che acquistano ad esempio maggiormente integratori alimentari in un determinato periodo sono più propense quindi hanno loro chiamano tasso di gravidanza maggiore rispetto delle altre quindi la predicting personality che cosa fa? cerca di individuare dei comportamenti dei consumi minimi che poi invece amplificati ampliati nei confronti del grande pubblico possono determinare degli acquisti interessanti uno degli elementi che ad esempio non viene mai raccontato dalla GDO anche in Italia è che le tessere punti non sono tessere punti in realtà ci permettono e permettono alla GDO di avere grande informazione ad esempio sa esattamente ogni settimana quanto noi compriamo che cosa spendiamo che prodotti acquistiamo non a caso le casalinghe trovano sempre in offerta all'ingresso del supermercato un prodotto che esattamente a loro serve perché loro non si ricordano che l'anno prima nella tessera punti gli era stato caricato che quel prodotto l'avevano acquistato e quindi gli era interessato in quel periodo quindi si tratta di determinare e capire quali sono questi tipi di consumi per poi massificarli quindi renderli più ampi e trovare una strategia di comunicazione che possa portare all'acquisto di prodotti che sono differenziati rispetto a quelli che si immaginavano prima è una cosa interessantissima al Silent Love farò altri esempi quindi anche alcune consulenze che ho fatto per raccontare appunto come si può ottenere tutto questo attraverso appunto l'analisi dei big data e ovviamente abbinato a tutte le strutture archetipiche percettive che il neuromarketing sostanzialmente riesce a darci grazie Mariano ci vediamo a Verona e mi aggancio subito con quello che abbiamo appena detto Mariano ha parlato di Social Meter che è un'azienda assolutamente importante che è stata anche partner del Silent Love e questo è un dato fondamentale nella praticamente strategia rotelline che vi manderò perché tutto quello che diremo in questo webinar realizzeremo un documento e vi mandiamo con tutti i riferimenti dei vari argomenti vi manderò la foto della strategia e in questa vedete che nella parte iniziale si parla di analisi appunto dei social qual è la differenza con l'analisi per esempio delle keyword di Google che nel caso di Google andiamo a prendere un'esigenza dell'utente e quindi che sintetizza un concetto e lo ricerca online con praticamente l'analisi delle conversazioni o anche delle immagini sui canali social vado a prendere anche delle esigenze latenti l'utente non sa che ha bisogno di quel tipo di cosa ma dalla sua conversazione viene fuori per esempio nel mondo delle assicurazioni auto si pensa sempre al risparmio ma in realtà se andiamo a prendere delle conversazioni online su quell'argomento lì le persone sono più interessate a una questione di risparmio di tempo devo prendermi mezza giornata per andare al mio assicuratore per fare l'assicurazione e quindi l'assicurazione online potrebbe essere un valore aggiunto proprio per questo motivo oppure con la società The Fool di Matteo Flora che fa proprio analisi di questo tipo l'anno scorso per esempio sul parco del Saint Love abbiamo presentato il dato della ricerca per esempio che posso fare su Google che è colore dei capelli e quindi Google mi dice semplicemente quante persone ci sono che sono facendo quella ricerca io sviluppo un contenuto ma arrivando al concetto di Human First Index devo andare oltre al numero di ricerche e dare l'informazione tramite l'analisi fatta The Fool veniva fuori che una delle parole più utilizzate nelle conversazioni social era dedicata alla paura se mi compro quel prodotto che ha quella tipologia di colore quando lo metto in testa poi alla fine mi dà lo stesso risultato con quel colore lì la mia faccia il mio incarnato va d'accordo oppure ovviamente avrà un risultato peggiore di quello che è oggi e quindi il concetto di paura o di disagio o per quale motivo una donna sceglie di cambiare il colore dei capelli potrebbe essere un elemento da aggiungere dentro ai nostri contenuti e quindi è ovvio che ha un valore diverso da un contenuto che semplicemente mi indica i trend del colore dei capelli del 2020 ok poi ci sono delle piattaforme per esempio Amplitude potrebbe essere per quanto riguarda il concetto di andare oltre Google Analytics è una piattaforma di analisi comportamentale che può esserti utile per andare un po' fuori dal dato quindi un'analisi un po' più approfondita se prendiamo un tool gratuito oggi oltre a Google Analytics puoi utilizzare Google Data Studio se non lo hai utilizzato conviene darci un occhio perché ovviamente ha il concetto di business intelligence e quindi è un concetto di andare oltre l'analisi classica che facciamo dei dati per raggiungere ovviamente obiettivi maggiori e se parliamo di obiettivi maggiori non posso che chiamare in causa Giulia Bezzi grandissima esperta SEO nonché socia di Enlove che vedremo ovviamente sul palco come il 14 di marzo a Verona e adesso ci parlerà dei trend 2020 per quanto riguarda la SEO Salvatore allora senti ti dico una cosa che ti sembrerà banale però i trend del 2020 sono i trend del 2019 ma fateli cioè l'idea è proprio quella di riuscire ovviamente con degli esperti a fare in modo che il vostro sito sia finalmente mobile e mobile non significa quando mi sposto all'interno del sito non riesco a muovermi con il dito per cui vado malissimo deve essere responsive significa che tutti gli smartphone tutti i tablet devono fare in modo di avere un sito che sia navigabile e questo lo possiamo fare tranquillamente ispezionando con gli elementi del sito è facile è facile prendete andate sopra il vostro sito tasto destro vi arriva fuori ispezione elemento si può vedere come funziona da smartphone come funziona da desktop come funziona responsive e a quel punto saprete se effettivamente il vostro sito lo è se non lo è il sito bisogna che sia nuovo bisogna rifarlo perché è uno dei fattori importantissimi Google sta continuando a dircelo da anni e noi non ce lo filiamo se è mobile deve essere anche veloce è un'altra cosa di cui Google parla tanto 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 al punto che dobbiamo stare almeno sotto i tre secondi tre secondi come si fa a vedere attraverso PageSpeed PageSpeed è uno strumento che ci dà Google la disposizione molto semplice basta inserire l'URL del proprio sito per la home per le pagine interne e quant'altro e lui ci dirà guarda che sei scarso e quando ve lo dice ve lo dice prima da mobile perché siamo a mobile first da qualche anno per cui quello che dovete fare è quantomeno verificare che il vostro server sia in grado di sopportare il carico degli utenti che vengono a visitare il vostro sito per esempio cambiare anche server farm si serve il codice codice pulito codice preciso non ci deve essere troppo javascript c'è tanti movimenti perché i movimenti appesantiscono il sito cache è quella cosa che accade quando si tiene memoria del proprio sito per cui io navigo un sito e nel frattempo non c'è bisogno di ricaricare nuovamente le risorse il mio sito dovrebbe essere in grado di mantenere quelle risorse in modo che l'utente possa vederle immagini o video o quant'è tutte compresse potete vederlo da page speed perché page speed vi dice per ogni cosa del vostro sito che cosa c'è che non va che cosa c'è che va tra cui le immagini le immagini le immagini vengono caricate troppo pesanti e anche quello rallenta altra cosa che dovete fare se è mobile a questo punto dovrete rispondere a tutte le esigenze dell'utente che invece di digitare una ricerca chiede al proprio dispositivo qualche informazione voice search ormai ci siamo non ci siamo ancora così tanto ma ci siamo per cui piccoli accorgimenti esistono dei microdata che servono apposta per dire a google quali pezzi diciamo del nostro sito possono essere fonte di risposta alla domanda effettuata attraverso il comando vocale altra cosa che potete fare se non fate questa attività sviluppate dei contenuti che rispondano anche alla richiesta che facciamo generalmente per quanto riguarda i future snippet i future snippet sono quelle parti di testo che vedete proprio in alto in alto in alto nella pagina di ricerca che in genere sono fatti con degli elenchi anche gestire dei contenuti in quel modo potrebbe dare un'immediata risposta al comando vocale perché google cerca di dare la risposta in minor tempo a un utente che sta utilizzando la voce al posto della tastiera quindi è generalmente in fase di movimento o comunque non è così paziente come lo sarebbe se fosse seduto alla scrivania da desktop altra cosa che dovete fare linguaggio naturale sempre di più si è parlato tanto di BERT che è un algoritmo dire vero è un'intelligenza che ci permette di comprendere non più l'intento di ricerca ma addirittura riesce a comprendere quanto una parola distante dall'altra sia comunque parte dello stesso campo semantico per cui dello stesso argomento vuol dire che possiamo finalmente essere diciamo il più naturale possibile ovvero non c'è necessità di avere vicine le parole per forza per far capire a Google che cosa c'è all'interno del testo l'utente lo capirebbe comunque perché parla italiano come noi non ci sarebbero problemi questo non significa che abbiamo smesso di fare ricerca delle parole chiave o ricerca di quelle che sono realmente le richieste dell'utente perché quello rimane ancora e ve lo porto qui aiuto certo Salvatore che mi ha chiesto un sacco di cose oggi allora rispondete per punti che cosa significa prima informazione subito immediatamente mentre si entra in pagina così aiutiamo a crearci il future snippet che non è merito nostro nel senso è Google che trasporta sulla pagina di ricerca una bella forma di risultato zero più visibile degli altri ma se noi non abbiamo gestito bene il contenuto all'interno quel future snippet non l'avremo mai ed è fondamentale altra cosa utilizzate all'interno del vostro sito diversi tipi di percorsi non esistono solo articoli lunghi 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 una vita e mezza anche se i pillar bisognerebbe farli molto lunghi e i pillar sono tutti quegli articoli che parlano genericamente di un argomento esistono le news che servono corte e che potremmo utilizzarci ampi insieme e ampi ci permette di evitare che la news sia tanto pesante perché è spogliata di qualsiasi fastidio tipo immagini video e quant'altro o meglio ci sono ma sono gestite in modo differente per cui più veloce altra cosa cluster i cluster sono gli argomenti specifici siccome siamo stanchi di avere dei contenuti che sono tutti uguali fate in modo che i vostri contenuti specifici siano scritti da persone che effettivamente ne sanno di quell'argomento non perché potrebbe cambiare livello di ricerca ma perché quando si entra all'interno di un sito continuare a vedere la stessa informazione per 10.000 siti differenti perché ce la siamo copiata una con l'altro non vi renderà migliori la frequenza di rimbalzo aumenterà e per noi se ho la frequenza di rimbalzo cioè quanto rimane la gente all'interno è un grandissimo problema altra cosa scade prodotto chi ha l'e-commerce basta scade prodotto vuote basta basta avere soltanto l'immagine basta dare due informazioni spicciole è la vostra parte importante ma sappiate che generalmente le persone non sanno perfettamente che quello è quello che stanno cercando piuttosto cercano delle query informazionali come per esempio come porto le adidas bianche con i pantaloni neri nessuno toglie che voi non possiate metterlo all'interno della vostra scheda prodotto mettendolo all'interno della vostra scheda prodotto è più probabile che le persone possano capitare perché stanno cercando un'informazione generale e scegliere il prodotto se invece voi inserite soltanto le solite descrizioni del colore della taglia eventualmente del materiale con cui ha fatto il prodotto vi perdete un sacco di possibilità bene io ci sono quasi l'ultima cosa che vi dico è non dimenticatevi che io parlo sempre della SEO all'interno del sito ma difficilmente parlo di quello che avviene fuori e invece adesso ve lo dico fattori indiretti se non avete brand disagio perché in SERP siamo in tanti ormai nella pagina di cerca tutti ci vogliamo essere tra il primo e il quinto risultato ci sono solo 5 posti adesso si confondono benissimo anche con tutta la parte di advertising per cui se io riesco a farvi diventare i primi ma poi non sono conosciuto da nessuno è molto probabile che il secondo o il terzo risultato conosciuti vengano cliccati al posto mio per cui io avrò fatto un lavoro per niente ultima cosa link building esiste c'è e bisogna farla sono le nostre referenze non smettete di provare a lavorare anche in questo senso non pensate soltanto all'orticello del vostro sito ma fate in modo che i vostri articoli siano presenti in altri siti di valore del vostro argomento magari verticali che possano portare del traffico intenzionale all'interno del vostro sito ammazza quanto è brava la mia Giulietta grandissima hai tirato fuori praticamente una maia di informazioni vi ricordo che tutte queste informazioni i vari topic che tiriamo fuori realizziamo un documento con i vari link e i vari approfondimenti una cosa molto particolare che sta capitando dal 2019 per me prima Google era muto parlava pochissimo nel 2019 ha parlato veramente tanto è stato veramente tanto da fare non credo che abbia fatto abbia non fatto tanti aggiornamenti ma piuttosto l'abbia dichiarati nel 2019 l'ha fatto veramente spesso e nel 2020 mi sa che ha iniziato di nuovo a razzaffarlo secondo te per quale motivo? ma allora lui ha una bellissima cosa che a me piace tanto che si chiama Google Search Liaison è su Twitter ed è il suo account da cui generalmente ci racconta un sacco di cose e mi fa molto ridere perché quest'anno anche l'anno scorso aveva cominciato veramente in maniera aggressiva continua a dirci guardate che sto aggiornando guardate che mi sto aggiornando guardate che mi sto aggiornando e mentre dice guardate che mi sto aggiornando riporta il link di un articolo del suo blog che noi conosciamo tutti credo che ci sia da adesso potrei sbagliarmi ma potrebbe essere il 2014 per cui qualche anno che dice sempre le solite cose a dire il vero Google non ha cambiato il suo modo di pensare il contenuto o il sito lui continua a dire signori io mi devo aggiornare devo continuare a creare delle nuove attività all'interno di Google perché devo essere il miglior motore di ricerca al mondo voi però datemeli questi contenuti di valore ma contenuti di valore per lui significa rispondete alla domanda dell'utente nel più breve tempo possibile perché a me serve quello per esempio e continua a dire per cortesia siete certi che i vostri contenuti siano diversi dagli altri perché sono di qualità per cui raccontano un sacco di cose che servono davvero perché anche lui comincia a pensare molto probabilmente che il motore di ricerca sia ormai pieno inzeccato di cose che non servono a nessuno le gioca sempre su questi due fattori oltre a raccontarci costantemente che se non continuiamo se continuiamo ad avere dei siti che sono lenti come le rumache non andiamo da nessuna parte però realmente lui sta comunicando il fatto che è molto sul pezzo ed è come si dice abbastanza interio e quieto ma sotto sotto quello che vedo io è che non sta chiedendo di modificare il nostro modo di comunicare le informazioni sta insistendo perché noi non lo facciamo secondo me ottimo e altra questione tu hai parlato perché già immagino chi sta seguendo il webinar dice ma mi stai parlando di mobile first mi stai parlando di personalizzare le schede addirittura le schede prodotto ovvero un sito sta ottimizzato dal punto di vista SEO avere un sito a razzo c'è un tool che può aiutare in tutto questo tipo di attività? ma allora io qua sono di parte essendo la brand ambassador io non utilizzo un tool ma utilizzo una SaaS si chiama Clix ed è secondo me è veramente il futuro o meglio credo che noi SEO dobbiamo abituarci al fatto che dovremmo utilizzare molto di più quello che è il grano salis rispetto alle manine e alle classiche forme tecniche che finora abbiamo utilizzato Clix è uno strumento all'avanguardia che praticamente va a lavorare tutto il sito perché questo sito sia performante lato SEO a livello tecnico per cui responsive più veloce del veloce senza problemi di codice tutto bello pulito ma non solo ci aiuta ci aiuta a fare strategia perché lavora ascoltando la SERP e ascoltando il competitor con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni che sono poi quelli che dovremo battere in posizionamento e per il traffico organico io devo dire la verità che da quando ho Clix le rughe avanzano più lentamente per cui vuol dire che è assolutamente utile un consiglio che do è di smetterla di ricordarci come eravamo ma pensare che stiamo andando avanti e che invece di utilizzare il nostro tempo a cercare di vedere un record per record dell'URL come stanno andando potremo spendere più tempo per aiutare davvero il nostro cliente a fare conversione a traffico organico perché non esiste solo portare le persone all'interno del sito ma dobbiamo farcele restare e dobbiamo fare in modo che spendano tutti i soldi da noi Giulia facciamo un esempio pratico ci dici un caso studio in cui è applicato Clix e ha avuto dei risultati per esempio in Arcaplanet quest'anno abbiamo lavorato a una nuova struttura di contenuti utilizzando Clix quindi abbiamo installato Clix Clix ha aiutato un Magento perché Arcaplanet ha sviluppato su Magento andando a risolvere delle problematiche tecniche dopodiché noi abbiamo lavorato per fare in modo che all'interno non ci fosse problemi di contenuto ovviamente un e-commerce avendo tanti prodotti è anche difficile che possa avere contenuto vario per cui abbiamo lavorato tutte le categorie e le sottocategorie per dare delle informazioni differenti quindi query informazionali dopodiché adesso finalmente visto che Clix ci dà una mano riusciamo anche a capire con i competitor che cosa dobbiamo fare per fare in modo che i competitor siano svantaggiati rispetto a noi effettivamente l'ho visto anch'io quando si installa Clix si hanno dei risultati per capirlo basta aprire SEMrush o SEOZoom e senza sapere la data di firma del contratto e della messa go live di Clix lo capisci dal picco verso l'alto perché effettivamente va a ottimizzare tutta la parte di codice la cosa bella di Clix che permette per esempio un e-commerce che ha migliaia e migliaia di pagina e noi parliamo di personalizzazione delle schede uno dice caspita dovevo personalizzare tutte no parte ovviamente da quelle dove tu hai i maggiori risultati dove hai maggior margine e Clix ti permette di non cambiare le regole di Magento o di qualsiasi di WooCommerce ti permette di modificare in real time una scheda specifica poi se hai dei risultati sia dal punto di vista delle conversioni sia dal punto di vista SEO lo potresti applicare e impostarlo come regola generale vengo da dieci anni di sviluppo di e-commerce e vi dico che questa roba qua è fondamentale altra questione Giulia e chiudiamo avrai l'onere e l'onore di avere una masterclass il 13 di marzo perché ricordo a tutti che il 13 venerdì 13 marzo avremo una giornata di masterclass a Verona e poi il giorno 14 ci sarà il Sun Love ci racconti cosa farai il 13 di marzo alla masterclass e cosa farai sul palco del Sun Love allora quest'anno facciamo una cosa diversa dal solito ho sempre parlato di contenuti tantissimo di contenuti anche di ottimizzazione del contenuto stesso dell'ottimizzazione della pagina quest'anno invece parto a parlarvi veramente di mobile per cui prendo e vi disegno quello che per me è un layout di un sito che va bene un sito e commerce e un blog molto probabilmente perché sono quelli che poi ormai vanno per la maggiore e vediamo insieme la checklist corretta per avere un sito che sia responsive che sia veloce che risponda a quello che ormai sarà il futuro cioè la voice search e che diede contenuti di valore al nostro utente facendoli anche convertire cioè facendo in modo che il carrello si riempia mentre e questo per la masterclass del 13 marzo mentre il 14 credo Salvatore che monterò sul palco con te di nuovo e ormai mi pare che il nostro speech in tandem sia piacevole per cui faremo un sacco di cosine ma parleremo soprattutto almeno per quanto riguarda la mia parte di come si deve monetizzare perché il traffico organico è un traffico intenzionale significa che la gente è proprio pronta a muoversi per avere delle informazioni e comprare delle cose per cui non c'è pubblicità che tenga e quindi io voglio parlare di business e voglio farvi vedere che so farvi fare soldi sarà uno spettacolo Giulia ci fai un saluto dei tuoi? ci vediamo al Salve vi aspetto tutti non mancate top ciao Giulia ciao da Giulia a Claudia di cosa parliamo adesso? parliamo di smarmellamento perché dopo aver sviluppato i nostri contenuti possiamo aspettare così che ci arrivi il traffico grazie all'attività che fa Giulia SEO ma dall'altra parte invece dobbiamo fare se il nostro contenuto ci piace così tanto dobbiamo provarne tutti i sistemi per poterlo smarmellare e uno di questi è ovviamente l'advertising e quindi adesso vediamo sia per quanto riguarda la parte di l'advertising può essere utile ovviamente sia per comunicare il nostro messaggio e sia monetizzare se abbiamo un blog che fa tanto traffico con i nostri banner pubblicitari quindi chiamo all'appello Claudia Piantanida Publisher Manager di Adcaora che si occupa ovviamente di questo quindi hanno un punto di osservazione fantastico per quanto riguarda i formati pubblicitari e ti chiedo subito Claudia quali sono i formati che hanno funzionato di più nel 2019 e quali che sono i trend per il 2020? Allora i formati che hanno funzionato meglio nel 2019 sono pressoché i formati video come avete potuto constatare da qualsiasi social network piuttosto che grande diciamo editore i formati video lato editore possono essere sicuramente interessanti dal punto di vista di contenuto e quindi di produzione pertanto io che ho un sito internet ho intenzione di guadagnare con un formato video e ho la possibilità di costruire quindi di sviluppare dei miei contenuti video posso scegliere quindi un partner tecnologico dove ostare questi contenuti e di conseguenza un partner per monetizzare questi contenuti se invece non ho la possibilità le disponibilità economiche di creare i miei contenuti video posso sicuramente appoggiarmi dei partner come delle concessionarie piuttosto che altri diciamo partner tecnologici che hanno all'interno una porzione una porzione commerciale che danno a disposizione un player e il contenuto per esempio ci sono dei partner che hanno a disposizione dei contenuti video molto interessanti e riconosciuti a livello nazionale in modalità assolutamente gratuita la cosa che viene chiesta all'editore è di inserire il formato in pagina ovviamente questi contenuti sono in linea con ciò che c'è scritto all'interno degli articoli quindi con il target di riferimento e vengono monetizzati direttamente dal partner quindi dalla concessionaria piuttosto che da terzi insomma come trend di mercato diciamo del 2020 invece come novità del 2020 sicuramente molto interessante il proximity marketing ovvero sono tutte quelle campagne che attraverso le push notification ci ci portano all'interno degli store in questo caso gli editori per poter sfruttare questo nuovo trend del 2020 dovrebbero sicuramente pensare ad un'app l'app non deve essere per forza nativa perché appunto ha dei costi veramente importanti potrebbe semplicemente essere una app in web view si chiamano così quindi sono app che lato editore costano meno ma vengono monetizzate bene alla stessa maniera ovviamente è molto importante la tipologia oltre che la tipologia del target la tipologia del servizio comunque dei contenuti che vengono dati ai nostri utenti vi faccio un semplice esempio proximity marketing significa per esempio io Essilunga decido di sponsorizzare di promuovere un brand particolare di pasta quindi invito tutti quelli che passano vicino ai miei store ad entrare in Essilunga una volta dentro Essilunga addirittura mi possono arrivare anche delle ulteriori informazioni mi possono arrivare dei contenuti extra relativi a questo brand piuttosto che uno sconto per acquistare questo brand quindi io editore devo mettere a disposizione di Essilunga la possibilità uno di avere il GPS attivo quindi se sono un sito news devo riuscire a convincere tra virgolette i miei utenti a mantenere attivo il GPS e poterli seguire durante tutta la loro giornata piuttosto che se invece sono un sito che fa servizi come bike sharing piuttosto che altri servizi che già utilizzano magari delle mappe quindi una localizzazione sono un po' più facilitato da questo punto di vista il proximity marketing appunto addirittura accompagna all'interno dello store e in alcuni casi accompagna davanti allo scaffale in questo caso ovviamente lo store deve essere biconizzato significa che ci sono proprio dei meccanismi degli hardware posizionati all'interno dello store e lato sempre editore devo dire al mio utente di tenere anche le notifiche push attive altrimenti non è possibile fornire questo tipo di informazione ok abbiamo parlato di quelle che possono essere le attività da fare per ovviamente farsi pubblicità quali sono i formati che funzionano di più ovviamente è venuto fuori anche troppo tardi perché se parliamo di trend di un anno è ovvio che al primo posto c'è il video e quindi la prima cosa che devo dire appena è partito questo webinar è il 2020 è l'anno dei video come l'è stato il 2019 il 2018 e il 2017 sarà contento l'amico Antonio Meraglia c'è dall'altra parte possiamo monetizzare il traffico del nostro sito con ovviamente dei banner pubblicitari quali sono le attività che un editore deve assolutamente fare per avere successo e guadagnare dalla pubblicità allora dal punto di vista diciamo più commerciale barra UX quindi user experience sicuramente il grande consiglio che posso darvi è non rendete i vostri siti degli alberi di Natale quindi poco è meglio perciò pochi formati strutturati bene non sovrapposti questo perché perché ci sono delle nuove regole dettate dall'OIAB Italia potete cercare Better Ads su Google e vi verranno fuori tantissime informazioni a riguardo che aiutano hanno aiutato insomma il mercato del digitale a tra virgolette pulirsi ripulirsi da queste continue sovrapposizioni questo perché perché i clienti chiedono sempre più degli obiettivi sfidanti e questi obiettivi non possono essere raggiunti se ci sono delle sovrapposizioni dal punto di vista quindi legale il mio consiglio tecnico legale commerciale quindi andiamo a prendere un po' tutti e tre i campi è sicuramente di controllare appunto Better Ads che cosa dice quali sono i formati che non possono più essere utilizzati soprattutto su desktop vi faccio un esempio i pop up o pop under sono assolutamente bannati e altra cosa fondamentale è sicuramente la cookie policy cookie low e privacy policy ci sono tanti partner in rete che millantano tra virgolette di poter aiutare o comunque poter fornire la giusta cookie low agli editori attenzione perché in realtà quelle corrette al 100% sono molto poche vi consiglio di andare a controllare e rimanere aggiornati sulla legislazione inglese non quella italiana perché è sempre comunque un passo avanti rispetto a noi ad ogni modo il consiglio che vi posso dare per controllare se quella cavetta online è corretta è nel momento in cui un editore nuovo accede al vostro sito deve assolutamente apparire il banner in fondo al sito o in cima che dice attenzione stiamo utilizzando comunque prenderemo dei cookie perciò leggiti bene le informative eccetera eccetera e prima di cliccare il tasto accetta ok non deve apparire alcun tipo di banner sotto se appaiono non sta funzionando correttamente altra cosa importantissima per guadagnare di più dovete assolutamente controllare il file ads.txt che sicuramente avrete messo in pagina senza quello non si guadagna più niente grazie Claudia ciao Salvatore informazioni potentissime sicuramente qui ci sono un sacco di richieste che verranno fatte in merito ti ringrazio ci vediamo al send love e adesso è dato che ho un po' mal di gola perché sto parlando da 17 ore l'argomento che andremo a trattare è proprio la voce ok uno strumento antechessimo che in realtà è attualissimo uno dei trend più forti del 2020 ma negli anni a venire sarà sicuramente la voce ma non parlo solo di voice search ma parlo proprio in generale della voce e quindi non posso che non chiamare Luca Viscardi di Radio Number One che adesso lo sentirete ha una voce pazzesca che ci parlerà appunto dei trend per quanto riguarda la voce nel 2020 ciao Salvatore beh i trend del 2020 curiosamente sono qualcosa di particolarmente antico perché uno dei trend che vedremo nel prossimo anno sarà quello della voce la voce che torna prepotentemente nelle abitudini degli utenti nelle giornate degli utenti nelle forme più disparate io ad esempio sto vivendo una sorta di seconda giovinezza della radio perché grazie all'ondata dei prodotti smart speaker siamo tornati ad avere la radio dentro casa la radio dentro casa in un oggetto tecnologico la radio dentro casa facile da consultare da attivare e da fruire e quindi che torna prepotentemente anche nell'abitudine quotidiana diciamo che un po' forse l'unica onda di contrasto rispetto allo strapotere dei video che abbiamo visto nel corso di questi anni però la voce diventa un trend secondo me anche al di là della radio perché è vero noi oggi abbiamo il fenomeno del podcast che è un altro tema importante quindi la voce ancora che entra nelle case nelle auto insomma negli uffici degli utenti on demand ma la voce diventa anche lo strumento attraverso cui le aziende dovranno dare informazioni che le riguardano proprio attraverso gli smart speaker ho la sensazione che in alcuni casi non si sia ancora colta davvero la forza di questo strumento e poi soprattutto la prepotenza di uno strumento come gli smart speaker i numeri ci dicono che l'anno scorso in Italia Alexa ha risposto a 600 milioni di domande e quindi bisogna porsi il problema di come rispondere anche quando le domande saranno magari relative alle aziende alle attività commerciali alle attività promozionali e quindi essenzialmente pensare ad una declinazione di tutto ciò che oggi noi abbiamo fatto nel mondo web attraverso le app attraverso i siti internet anche attraverso la risposta che la voce darà con sistemi come gli smart speaker tra l'altro l'altra percezione che in alcuni casi mi è capitato di avere è che su questo versante a volte si perda un po' il tema della qualità cioè che la conversione in voce di alcune informazioni sia fatta senza pensare al tema che anche la voce come la formatazione di una pagina web come la presentazione grafica di un'applicazione abbia degli standard degli stili delle regole che vanno rispettate anche in questa nuova generazione però insomma 2020 si presenta come un anno in cui si parlerà tantissimo e la voce tornerà a essere un elemento preponderante parlando con la propria radio con i propri elettrodomestici e facendo le domande più impossibili al proprio smart speaker bisognerà essere pronti a rispondere Human First Index perché alla fine si ritorna sempre lì c'è un'attività perfino gli smart speaker le persone ci parlano come se fosse un amico quindi in tutto quello che facciamo alla fine vogliamo trovare un contatto per me gli eventi sono la versione offline del blog anche l'evento va realizzato con delle categorie di argomenti per ogni categoria utilizzo un relatore che sarebbe un blogger che va a sviluppare un contenuto specifico per un certo tipo di target oltre a fornire dei buoni contenuti l'ho sempre detto in tempi non sospetti dalla prima edizione del S&L oltre ai contenuti bisogna offrire una buona esperienza Maya Angelou diceva le persone possono dimenticare ciò che gli diciamo le persone dimenticheranno ciò che facciamo le persone non dimenticheranno mai come le facciamo sentire quindi l'esperienza è fondamentale e non è un caso che gli eventi stanno praticamente esplodendo e quindi è una cosa che assolutamente funziona più siamo collegati online dice Kotler e più abbiamo bisogno di momenti offline quindi anche un business completamente online deve trovare dei momenti di contatto offline e l'evento ovviamente garantisce proprio questo a prescindere che sia un evento informativo come S&L o un evento aziendale per vendere i propri filtri dell'acqua è importante però offrire oltre al proprio contenuto che deve essere di spessore elevatissimo e quest'anno a S&L avremo Alessandro Varicco Andrea Fontana Richard Romagnoli Giulia Bezzi Fiona Ciaccalli Matteo Pogliani e tantissimi altri personaggi è andato a guardarvi il programma è un programma ricchissimo ma oltre a questo ci deve essere anche la componente spettacolare quindi tornando da te Luca ti chiedo quali sono i trend dedicati allo spettacolo? Beh sul fronte diciamo entertainment spettacolo c'è un fronte che continua a crescere sta diventando sempre più importante lo è già da molti anni ma lo sarà ancora di più nel futuro che quello degli eventi ovviamente gli eventi nelle loro forme più disparate nel campo della musica ad esempio proprio la percentuale di fatturato oggi dell'industria si sta spostando proprio sul lato eventi qualche giorno fa mi raccontavano in un modo curioso una volta si regalavano dischi a Natale oggi si regalano i biglietti per il concerto dell'anno successivo negli eventi arriverà ad esempio una nuova ondata tecnologica questo è molto interessante forse non a brevissimo periodo un po' presto pensare a questo trend per il 2020 però si sta già lavorando questo è un progetto ad esempio che Qualcomm che realizza processori per gli smartphone per i tablet ora per i computer e anche per i visori di realtà virtuale sta oggi realizzando insieme a Stiva Occhi ad esempio è l'uso molto massiccio della realtà estesa negli spettacoli questo significa che nel corso di uno spettacolo lo smartphone diventerà uno strumento fondamentale per fruire di alcuni contenuti non solo lo strumento con cui fare foto e video da mandare agli amici in tempo reale ma anche un modo per entrare in prima persona nello spettacolo che si sta vivendo questo apre aprirà senza dubbio anche delle opportunità commerciali interessanti per chi vorrà utilizzare questo genere di strumenti quindi un tema è quello ad esempio degli spettacoli in cui saremo sempre meno spettatori passivi ma sempre più parte integrante di ciò che stiamo vedendo perché lo condividiamo in primo luogo e perché proprio attraverso nostre azioni con un rapporto in tempo reale con la struttura in cui saremo calati avremo modo anche di condizionare lo sviluppo e lo svolgimento dello spettacolo stesso grazie Luca la tua voce è splendida quando avrò dei momenti in cui mi sento solo un po' triste ti chiamo con quella voce lì praticamente come avere una sciarpa addosso poi mi dai anche delle dritte delle lezioni per avere quel tipo di voce impostatissima e ci vediamo ovviamente anche tu al sell off giusto? dovrò esserci per forza credo che sarò assolutamente presente anzi grazie per l'invito non mancherò Human First Index ritorniamo sempre lì nel nostro percorso decisionale di acquisto di un prodotto c'è la fase ovviamente di consapevolezza ci sono delle attività spot pubblicitari che mi vengono dove il cliente viene a contatto con il mio brand poi c'è la fase di appeal e quindi di ok quel messaggio che ho ascoltato mi interessa la terza A di Kotler è la richiesta di informazioni in quel caso l'azienda quindi entra in gioco il content marketing l'azienda deve rispondere con i propri contenuti la quarta A è A è l'azione e quindi compiere l'azione in questo caso di acquisto la quinta A delle 5 A di Kotler riguardano invece il feedback che le persone lasciano online sul mio brand questa parte qui può essere anche una parte dedicata all'attività che fanno blogger quindi quando sviluppo il mio contenuto perché so che le persone andranno a cercare quell'argomento specifico devo sapere che ne devo parlare io come azienda e in più devo cercare online blogger youtuber o instagramer vari che stanno parlando di quell'argomento lì specifico in maniera tale di venire in contatto e trovare il modo che parlino o del mio prodotto specifico o semplicemente del settore merceologico ok e quindi siamo sempre nella fase di trovare nel modo di convincere l'utente che il mio prodotto è esattamente quello che sta cercando per portarlo o spingerlo poi all'acquisto ok nel libro per esempio sex content questo argomento qui è affrontato e fa parte ovviamente della della strategia al tra proposito chiedo a Fiona chi sei e cosa fai allora questa è la domanda più difficile che tu potessi farmi caro Salvatore ma io cercherò di essere breve e concisa ogni tanto online mi dicono che sono un influencer io questo l'ho scoperto da poco perché non ero partita con l'intenzione di essere un influencer sono iniziata sono iniziata ho iniziato con un blog poi ho aperto un canale youtube poi ho aperto un podcast insomma la mia vocazione è quella di comunicare online qualcosa che conosco e che scopro durante i giorni lavorativi e durante la mia vita insomma ok quindi tu hai iniziato comunicando tramite il tuo blog sei diventata competente su un argomento specifico le persone hanno avuto fiducia in te e da lì ovviamente hai preso questa qualifica di influencer e bene ti chiamano per questo motivo bravissimo non avrei mai saputo spiegarlo meglio non sono partita con l'intenzione di aprire un canale di qualsiasi genere e dico ciao sono un influencer io ho aperto il mio blog perché mi piacevano i videogiochi e la tecnologia e allora ho deciso di raccontare videogiochi e tecnologia come lo so fare io ho sempre pensato che magari avrei potuto trovare un taglio diverso dagli altri e da lì sono partita non immaginavo di arrivare oggi ad avere un'azienda con 10-15 persone che lavorano con me tutti i giorni e questa cosa per me è stato un sogno tanti cuori parlando delle 5A di Kotler in quale fase del percorso decisionale di acquisto dell'utente tu ti trovi con la tua attività cosa chiedono i miei clienti di solito i clienti arrivano chiedendo della comunicazione sul loro prodotto perché molto spesso piace come lo facciamo cosa abbiamo di speciale rispetto agli altri ma a dire la verità abbiamo anche dei numeri un po' più bassi di altri e siamo quelli che rispecchiano a pieno il pochi ma buoni questo significa che noi abbiamo un rapporto talmente forte con le nostre persone con le persone che ci seguono tutti i giorni tanto che le aziende hanno deciso di investire su di noi questo significa che magari qualcuno vuole dare spazio al suo prodotto e noi al giorno d'oggi siamo immersi in vasi da prodotti tecnologici quindi il nostro tempo quello è quindi principalmente il cliente paga il nostro tempo la nostra attenzione non mi paga per dire ciao il mio prodotto bellissimo perché noi mettiamo sempre in chiaro con il cliente dicendo va bene cerchiamo di dedicare il nostro poco tempo che abbiamo perché quello è al tuo prodotto sappi che saremo imparziali se il prodotto è bello diremo che è bello ma se ha dei difetti di certo non lo metteremo perché abbiamo costruito un rapporto con i nostri utenti talmente forte che non possiamo prenderli in giro dicendogli ciao compra questo anche perché noi non siamo una vetrina se vuoi una vetrina compri della dv display se vuoi compri una pubblicità in tv compri qualcos'altro non ti rivolge a personalità come per esempio la nostra quindi è esattamente quello che ho detto quindi ti trovi nella terza A quella di richiesta di informazioni e nella quinta A è quella di advocacy quindi dove l'utente cerca la riprova sociale l'azienda si racconta bene ma qualcun altro ha dei feedback positivi su questa azienda quindi nel tuo caso tu fai una doppia attività e quindi è per questo che vieni ovviamente chiamata per sviluppare questo tipo di di approccio efficace alla comunicazione Fiona cosa ci porti sul palco della Sainlove? Beh direi che cercherò di raccontarvi i dietro i retroscene dietro le quinte di quello che ho iniziato a raccontarvi qui in questo video perché ci sarà davvero tanto da cercare di capire perché è come se fosse un poliedro ha tantissime facce e magari non sempre quella frontale quella giusta bisogna cercare di trovare sempre una via di mezzo perché comunque la comunicazione online non ha ancora sì o perlomeno ha delle regole ma non sono universali per tutti quindi cercherò di portarvi il mio caso che può essere molto simile a quello di altri ma magari insegnarvi qualcosa di nuovo rispetto ad altri grazie Fiona ci vediamo a Verona ciaoone arriviamo all'ultimo punto che riguarda l'influencer marketing come tutti gli anni abbiamo dei personaggi storici che vengono su palco della Saint Love abbiamo Andrea Fontana che ogni anno ci stupisce con argomenti diversi ma che sono comunque legati al trovare e sono collegati con l'Human First Index quindi trovare il modo di trovare un collegamento un modo di approcciare il pubblico che ti porta oltre all'informazione ma a creare un contatto e una personalizzazione del messaggio che stiamo affrontando abbiamo parlato con Fiona Ciacalli assolutamente un influencer su un certo tipo di target di mercato e quindi se si parla di influencer marketing non si può parlare che è con Matteo Pogliani che è all'osservatorio nazionale di influencer marketing e quindi ha un punto di vista assolutamente invidiabile e competente sulla materia Matteo ti chiedo al volo quali sono i 30-2020 dedicati all'influencer marketing? Ciao Salvatore a tutti i ragazzi che stanno ascoltando il webinar allora ci sono molte novità per il 2020 lato influencer marketing l'influencer marketing infatti è uno strumento che ormai è abbastanza consolidato però è anche uno strumento estremamente mutevole rispetto a altri strumenti come il content marketing il blogging il social perché? perché deve seguire i trend dei creator e i trend di cambi delle piattaforme di conseguenza ciò che vediamo magari nell'anno precedente può non essere più utilizzato nell'anno successivo e viceversa sicuramente uno dei trend maggiori lato influencer marketing è l'arrivo di nuove piattaforme una su tutte ovviamente TikTok TikTok sta diventando sicuramente un punto fermo per i creator un po' perché naturalmente è scoppiato l'hype c'è la moda un po' sicuramente perché è una piattaforma che è nata con grande attenzione nel offrire ai creator importanti strumenti già direttamente in app per creare contenuti molto particolari quindi io riesco a fare video con un certo tipo di caratteristiche tendenzialmente abbastanza bellini visivamente creativi già utilizzando solo l'app senza dover passare come facevano molti quando caricavano su Instagram da strumenti professionali di editing video TikTok è discretamente una certezza lo è già diventato ovviamente come tutte le piattaforme non è un obbligo starci per forza utilizzarlo quindi prima di valutarla attentamente e di partire con una campagna su TikTok dobbiamo essere sicuri che il nostro target il nostro pubblico sia su quella piattaforma tendenzialmente TikTok lavora bene in un range di utenti tra i 16 e i 25 anni il core migliore ce l'ha forse diciamo 18-21 in Italia i numeri sono buoni soprattutto su questo target qui e si possono fare quindi delle campagne interessanti anche perché come ho detto dà grandi possibilità comunicative agli utenti perché comodo lato influencer marketing perché molte aziende stanno iniziando a valutare TikTok e come consiglio quando mi chiedono campagne quando mi chiedono di iniziare addirittura il percorso di un canale branded su TikTok il mio consiglio è sempre partire prima con gli influencer perché perché è un testing è un test importante per vedere se addirittura facendo dei contenuti fatti da persone che sono già autorevoli lì che sono molto forti a utilizzare lo strumento possiamo capire qual è il ritorno dal punto di vista degli utenti sulle comunicazioni riguardo i nostri servizi i nostri prodotti quindi se sono buone perché no magari possiamo anche poi in uno step 2 aprire un canale di brand altrimenti magari forse è meglio rimanere esclusivamente su attività legate ai creator altro punto importante parlando appunto del trend TikTok lato influencer marketing è ricordiamoci che ogni canale c'è le sue caratteristiche comunicative TikTok ancora di più se vuoi stare su TikTok devi stare con quelle caratteristiche quindi non è che prendo il video che ho fatto per Instagram o per YouTube e forse lo adatto lo taglio gli stilemi comunicativi di TikTok sono quelli e vanno assolutamente rispettati un altro motivo per cui i brand intelligentemente si affidano ai creator già presenti lì perché hanno già in mano questi stilemi comunicativi e quindi riescono abbastanza comodemente a tradurli in video per gli utenti quindi TikTok primo grande trend vedremo se l'arrivo delle funzionalità che Instagram sta clonando di TikTok su Instagram fermerà un po' questa scesa ma ad oggi devo dire che iniziano a essere inizia a essere veramente una piattaforma su cui credere sono nati anche infatti i primi tool di analisi per i profili uno per esempio di un partner dell'osservatorio Tic Analytics è un tool dedicato che ci permette di valutare i canali gli account TikTok e quindi ci permette di avere dati perché come abbiamo detto negli altri anni a SEO e Love lo ridiremo anche quest'anno l'influencer marketing va fatto data driven quindi la selezione parte dall'analisi dei profili dei dati perché non tutte le persone possono poi permetterci di avere le giuste performance hanno le caratteristiche per darci i giusti risultati messo un attimo la parte TikTok un altro trend sicuramente in crescita anche se è un po' più straniero però credo che arriverà pian piano anche in Italia sono gli influencer virtuali influencer virtuali cosa sono sono dei profili dove vengono creati digitalmente delle figure realistiche dei personaggi e creando questi contenuti prettamente digitali si raccontano questi influencer che hanno le caratteristiche sono fatti su misura per sembrare delle persone reali si racconta la sua vita ovviamente iniziano così poi siccome spesso alcuni hanno avuto grande successo diventano mezzi utili anche per raccontare i brand il più famoso è Micaela è uno dei profili prima nati su questa falsariga adesso ha più ha diversi milioni di follower su Instagram ed è interessante perché i brand hanno iniziato a contattarla durante la settimana della moda Michela fa un sacco di contenuti brandizzati con prodotti pur essendo non esistendo un altro esempio interessante è quello fatto da FIFA FIFA il videogioco ha una modalità di gioco in cui uno giochi come se fossi un campioncino in erba a 16 anni e cresce pian piano per raccontare questa modalità di gioco aveva creato un calciatore virtuale gli è uscito talmente bene gli hanno fatto un profilo che adesso viene addirittura utilizzato dai brand per fare comunicazione quindi Adidas ha lanciato diversi prodotti lato sport utilizzando questa figura non è facile perché ovviamente bisogna creare contenuti che sembrano veri digitalmente bisogna essere discretamente brave ci vuole sicuramente ci vuole un investimento di budget notevole ma la tecnologia ci sta venendo avanti per quello è un trend che sta arrivando perché se ci pensate sono già apparsi dei software addirittura c'è quella famosa app cinese che permette di fare cambio di volti in video già esistenti come anche film addirittura abbastanza comodamente la tecnologia ci aiuta ad andare in questo senso e in un futuro arriveranno che pensate la comodità per i brand di crearsi in casa un influencer che viene creato con le caratteristiche perfette delle buyer personas del brand quindi se il mio target è la ragazza universitaria un po' secchiona di 22 anni effettivamente lo faccio così e con quello riesco senza esagerare con i contenuti commerciali a creare dei contenuti che siano perfetti per la mia audience ultimo trend importante è l'orientamento sempre più alla qualità se negli anni passati i primi anni dell'hype dell'influencer marketing in Italia bastava farlo anche grandi brand bastava farlo e dire l'ho fatto si pensava più alla quantità che alla qualità oggi proprio alla luce dei risultati di investimento delle vecchie campagne l'orientamento è sempre più verso le campagne di qualità non a caso anche realtà che lavoravano molto con solo la quantità come i marketplace si sono pian piano si stanno spostando tutti a fare quasi un lavoro più d'agenzia in modo da dare molto più impegno e focalizzazione sulla creazione di campagne ad hoc veramente ben fatte e non su semplicemente un comprare un tot di follower al chilo top anche tu sarei un relatore della sell over il 14 di marzo ti chiedo cosa ci porterai sul palco vi stupirò quest'anno perché vi porto di sicuro vi porterò un'anteprima esclusiva dei dati del report principale dell'onim quello in cui intervistiamo i brand e i marketer sull'uso di influencer marketing lato 2020 quest'anno è molto interessante perché essendo la seconda edizione del report avremo sì i dati 2020 ma sarà molto interessante perché potremo vedere gli scostamenti rispetto al 2019 quindi capendo veramente come il fenomeno dell'influencer marketing in Italia perché diciamo che abbiamo colmato questo gap questa mancanza con l'onim con l'osservatorio riusciremo veramente a capire dove sta andando e come sta modificandosi l'influencer marketing i dati sono fondamentali lo ripetiamo sempre ma lo sono sul serio perché ci permettono veramente grazie a questi report noi possiamo veramente capire l'andamento e la situazione lato influencer e lato brand e questo ci aiuta in maniera enorme per migliorare e fare progetti sempre più performanti partiremo dai dati quando a SEO e Love e grazie a questi dati contestualizzeremo alcuni consigli per fare nel 2020 campagne sempre più performanti lo dicevamo prima sul trend la focalizzazione verso la qualità ci siamo sempre soffermati su questo punto negli ultimi anni ma quest'anno che è ancora più rilevante sarà importante dare dei consigli per farla veramente bene per esempio i giusti strumenti tecnologici per fare la selezione di influencer perché nel 2020 probabilmente è giunto il momento definitivamente di smettere di fare una selezione solo basata su seguo quello o mi consigliano quell'influencer quel creator il come misurarli che è un altro gap enorme che tutti misurano un po' al loro modo influencer marketing va la misurazione ha delle caratteristiche importanti che solo facendo una certa maniera ci permette di comprendere davvero quanto è stato performante il nostro progetto e non si basa semplicemente sulla manciata di like pur tanti che abbiamo ottenuto e poi vi racconterò qualche case study per contestualizzare questi consigli che vi ho dato perché è farvi vedere concretamente alcuni progetti fatti dai brand che hanno portato un certo tipo di risultati credo sia il modo migliore per rispondere ai dubbi delle persone e fargli vedere che la strada che stiamo consigliando è già stata percorsa e è già stata percorsa con profitto poi ci sarà qualche altra sorpresa che non vi svelo però questa sarà un po' la nostra base se I love vuol dire soprattutto informazione know-how e data quindi partiamo dal report come una sorta di funnel partiamo dal report diamo i consigli basati sul report e facciamo vedere i case per darvi concretezza di quello di cui abbiamo discusso poi nell'auspicio grazie Matteo ciao ci vediamo a Verona ok siamo arrivati alla fine di questa maratona informativa sei stato un campione e ti voglio fare i miei complimenti perché ti sei preso del tempo come abbiamo detto all'inizio ti sei preso del tempo per ascoltarti tutto questo webinar per me è importantissimo da questo momento io e te siamo amici fraterni se hai un problema con l'auto se hai un problema a casa se devi andare a fare la spesa ma non hai tempo puoi chiedere di Giulia Bezzi ok ti do questa dritta non chiedemelo a me ti do le ultime info ti manderemo un'email con il link della pagina dove recuperate tutte le informazioni di quello che abbiamo detto oggi ma la tale che se vuoi approfondire questi webinar servono per aprire delle finestre e poi approfondire gli argomenti a proposito di finestre hai una finestra fino al 20 di gennaio per comprare il tuo biglietto del Sunlove a prezzo ridotto altrimenti poi ovviamente aumenterai il prezzo e non ti conviene la fesseria ti conviene partecipare a questa edizione del Sunlove perché ha un programma spettacolare che ti invito a vedere sul sito sia quella della Masterclass sia quella della giornata del 14 di marzo se hai domande le proponi tramite la chat le proponi su Facebook ci mandi un'email siamo a tua completa disposizione quali sono i plus del Sunlove oltre a un programma ricchissimo quindi avremo con noi Baricco e con Alessandro Baricco affronteremo alcune tematiche dedicate al mondo digitale con una persona che non è del mondo digitale quindi ha un punto di vista secondo me assolutamente da ascoltare avremo Andrea Fontana avremo Gianpaolo Lorusso che è il numero uno per quanto riguarda le campagne su Google Ads avremo Veronica Gentili numero uno per quanto riguarda le campagne su Facebook avremo Giulia Bezzi numero uno della SEO e chi l'ha deciso? ovviamente ho deciso io e tantissimi altri ospiti avremo Matteo Pogliani numero uno di Influencer Marketing praticamente avremo soli numeri dispari ok? in realtà tutti questi numeri dispari diventano numeri pari perché non siamo nessuno da soli ma diventiamo più uno con il nostro pubblico e quindi alla fine diventiamo sempre un due vi saluto vi voglio un bene dell'anima e ci vediamo al prossimo webinar Grazie a tutti